Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV. Oro agli europei, ma anche un bronzo, argento e bronzo ai mondiali e anche una Nations League e fin qui siamo in territorio azzurro. E poi l'attività nel club, con tre scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Ora non è soltanto da titoli e medaglie che si giudica un allenatore, ma quelli certamente aiutano a capirne la statura. E la statura è indiscutibilmente alta per Davide Mazzanti, nostro ospite questa sera. Buonasera e benvenuto e grazie per averci fatto la cortesia di venerci a trovare. Grazie a voi, è un piacere essere qui con voi stasera. Davide Mazzanti, attualmente allenatore di Trento, ma con un passato appunto in altri club e soprattutto in azzurro. Sei lunghi anni, tante vittorie. Abbiamo in qualche modo messo la mercanzia sul tavolo in apertura di questa trasmissione, ma da insospettabile, perché certe affermazioni le hai fatte da vincitore, hai sempre tenuto a sottolineare come davvero, tanto spesso, il confine tra vittoria e sconfitta sia estremamente esiguo. E allora ti chiedo, qual è il disagio che provi quando invece dall'esterno lo sconfitto viene maltrattato e soltanto il vincitore viene osannato, quando in qualche caso si tratta magari di una finale che presuppone che lo sconfitto abbia alle spalle per tante vittorie? Ma il disagio credo di averlo vissuto forse all'inizio della mia carriera, quando spesso ho anche pensato di smettere per questo, perché non avevo forse le spalle abbastanza grandi da subito per riuscire a sopportare questa idea di perdente ogni volta che magari i risultati non arrivavano e credo che a partire anche dalla scuola, anche dal percorso che ho fatto con mio fratello che faceva motocross, dove la fatica ad eccellere mi aveva portato sempre a pensare che quando tu sbagli tendi a pensare di essere sbagliato. E invece il passaggio lento di quando sbagli al pensare che hai sbagliato, ma non che sei sbagliato, credo che sia una di quelle cose che piano piano sono riuscito a cambiare e molto spesso quando entro in scuola cerco di dare questo messaggio, perché l'errore fa parte, l'inciampare fa parte del percorso, lo dicono in tanti, però quell'essere e invece aver sbagliato penso che sia una cosa molto diversa che ti fa vivere quel disagio. Prima di ripercorrere le tappe salienti di questa avventura, che ha ancora tante pagine però da scrivere, ti chiedo quando hai deciso di diventare allenatore e se si è trattato di una vocazione. Ma in realtà io volevo insegnare, perché quando ho superato le scuole medie, non l'ho superato proprio in modo brillante, mi hanno dato due opportunità, o il lavoro o un professionale e credo che il volta, qui a Fano fu una svolta per me, con il prof di elettronica che mi accese, e anche il prof di italiano mi accese così la voglia di insegnare, tant'è che avevo intrapreso ingegneria, però era difficile con la matematica professionale affrontare, poi in quell'estate incontrai per caso Angelo Lorenzetti e mi sono detto da grande voglio fare questo, e poi da lì è iniziato il mio percorso. E' Angelo Lorenzetti che ti ha preceduto un paio di settimane fa, su quello sgavello con il suo quinto scudetto personale in tasca. Tu però non sei molto da meno, di scudetti ne hai collezionati tre, e andiamo a rivivere le emozioni, credo ancora vive a distanza comunque di 13 anni, di quel primo scudetto, perché il primo scudetto credo non si scordi mai, non che si dimentichino gli altri, finale con Villa Cortese, un Mazzanti ancora estremamente giovane sulla panchina delle Eorobiche, rivivendo appunto quelle sensazioni, 13 anni dopo sono un po' diverse rispetto ad allora, come il tempo le ha filtrate. Ma credo che ho fatto delle cose in quell'anno che poi ho preso ad esempio, perché ho vissuto quell'anno quasi con un po' di incoscienza, perché era il mio primo anno, però l'incoscienza mi aveva dato la possibilità di vivere il presente in un modo incredibile. In gara 4 era stato l'unico momento in cui mi ero scollegato da questo presente perché pensavo se vinco è il mio primo scudetto da debuttante, insomma un sacco di cose. E mi ricordo che quando Francesca Piccinini mise a terra l'ultima palla, io non avevo subito esultato perché stavo pensando a che cosa devo dire la squadra, l'azione successiva. Si è riportato avanti con il lavoro. Sì, perché ci ho rimasto male di aver perso gara 4 per essere uscito con i pensieri dal presente e lì ho iniziato a pensare a che dentro di me c'erano delle cose che funzionavano e quando andavano mi facevano performare al meglio e quella finale lì la ricordo con alcuni aspetti incredibili sotto questo punto di vista. Uno scudetto con Bergamo che aveva una lunga tradizione comunque alle spalle. quanto ti ha aiutato questo tuo allenatore non dico esordiente ma quasi a guidare quella squadra al titolo? Tantissimo, perché il direttore generale Giovanni Panzetti è la persona più spigolosa che io abbia mai incontrato nella mia carriera però quella che mi ha fatto crescere di più e lo sento spessissimo perché mi ha insegnato davvero tanto e la sua forza era stimolare me e proteggermi sempre nei confronti della squadra ed è una cosa che poi ho incontrato di rado nella mia carriera una persona così stimolante per te e così invece chiara e netta con la squadra una sensazione che ho rivissuto proprio quest'anno quando ho conosciuto Bruno da Re che per molti tratti sembra separato alla nascita da Giovanni Panzetti Può capitare di vincere uno scudetto anche se ovviamente non capita a tutti però quando si rivince lo scudetto non è più un caso e tu lo hai rifatto in una realtà completamente diversa da Bergamo perché Casal Maggiore era una piccola realtà rappresentante un piccolo centro che si affacciava sul palcoscenico della pallavolo nazionale a Casal Maggiore hai firmato questa seconda impresa quali punti di contatto rispetto a Bergamo e quali le differenze a quattro anni credo di distanza ma dopo il primo scudetto ero andato in difficoltà perché da quell'incoscienza era nato invece il fatto di voler una consapevolezza anche impegnativa magari sì quasi il voler confermare quella cosa poi ho scoperto che non puoi confermare devi progredire andare avanti e nel 2013 fu l'anno più difficile per me perché veni esonerato da Piacenza avevo già la nazionale in mano e me la tolsero perché c'era un conflitto visto che sposavo una pallavolista e quella privazione lì mi ha fatto tornare in me perché mi sono detto caspita mi hanno tolto la cosa che mi piace di più e quindi mi sono riappropriato un po' della mia incoscienza e delle mie intuizioni perché lì ho iniziato a vedere che c'erano tante cose che io facevo in uno stile tutto mio che però avevano una sua efficacia e Casal Maggiore fu l'espressione di quella voglia di tornare a competere e penso che ci sono state delle cose lì dentro anche riguardando la distanza molto molto raffinate dal punto di vista della gestione abbiamo detto di Casal Maggiore adesso diciamo di Conegliano perché si è perso il conto degli scudenti che sta vincendo Conegliano ma il primo porta la firma tra gli altri di Davide Mazzanti come ti sei avvicinato a Conegliano e se già allora c'erano i germi in qualche maniera di quello che sarebbe stato un ciclo straordinario? Ma loro volevano assolutamente iniziare un ciclo vincente e avevano una grande ambizione una grande struttura e c'era tutto per... Per privilegiare Sì e penso che sia la squadra più forte che io abbia mai allenato in un club e è stato l'anno in cui noi eravamo i più forti e quella cosa lì non fu semplice perché dopo uno scudetto il retropensiero c'era di poter buttare via un po' quello che aveva costruito l'anno prima perché magari una sconfitta poteva in qualche modo sporcare un retropensiero che però dopo che uscimo dalla Coppa Italia anche grazie alla società riuscimo a cancellare e ci ributtammo poi nello scudetto e fu una finale scudetto bellissima con una qualità importante e in cui poi ci viene a mancare la giocatrice principale la nostra attaccante principale per l'infortunio e quindi vincemo quella serie scudetto con una senza importante dove le ragazze che entrarono fecero un finale di stagione incredibile Credo che dopo tre scudetti la consapevolezza di essere capace di fare questo mestiere ci fosse ma quando è arrivata veramente nella tua carriera? Ma ho capito di avere delle intuizioni particolari dopo i 30 anni perché più o meno quando sono arrivato a Bergamo perché ho passato molta parte della mia carriera pensare di essere un po' inadatto e mi chiedevo ma perché sono qua specialmente quando sono arrivato nel 2006 in nazionale e in quell'anno ero sotto trasloco e quindi mi recapitò un po' le cose dell'inizio e riguardandole mi sono detto caspita cioè all'inizio facevo cose belle per essere per essere all'inizio e quindi poi mi sono detto che molto spesso le persone con esperienza vedono in te in anticipo quello che tu sei e quindi quel sentirmi inadatto era un po' così lasciato lì al caso perché comunque avevo già qualcosa dentro però ho preso consapevolezza di questo e del mio stile dopo i 30 anni che il mio stile poteva viaggiare per conto suo senza dover copiare troppo gli altri Hai già raccontato di aver sfiorato l'azzurro già qualche anno prima ma nel 2017 ti viene affidata la nazionale hai sentito in quel momento una responsabilità particolare? ma dopo dopo averla persa nel nel 2012 e 13 quando tornai in nazionale fu quasi un per un momento un rilassarsi perché era come un viaggio che si concludeva invece stava iniziando quindi c'è stata solo una fase iniziale in cui ho dovuto prendere quel fiato che forse mi era dovuto perché avevo spinto tanto per riuscire a arrivare fino a lì e poi da lì invece mi sono immerso con la mia incoscienza nel nel portare una squadra che non non arrivava a medaglia da un giochi del Mediterraneo del 2013 dove secondo me poteva stare e quando parlo di di incoscienza forse non è il termine giusto ma è la mia forse a volte capacità di vedere oltre le cose e quindi di cercare di portare le persone in quella in quella visione sei lunghi anni caratterizzati appunto da grandissime soddisfazioni credo la più importante perché si è trattato di un oro senza sottovalutare quello che è stato fatto ai mondiali appunto la vittoria agli europei del 2021 vediamo anche in questo caso le immagini e ti facciamo rilidere quei momenti come si è arrivati a quella vittoria agli europei che è seguita ad una delusione a testimoniare il fatto che appunto lo sport è fatto di alti e bassi difficile raro vincere sempre o quasi molto più spesso bisogna da una sconfitta ricostruire per poi arrivare di nuovo al successo ma la cosa bella e tosta di quell'anno fu che con l'Olimpiade avevo l'idea che la squadra potesse comunicare tante cose cioè al di là della vittoria e di quello che la squadra poteva esprimere dal punto di vista sportivo c'era che questa squadra secondo me aveva tanti messaggi da poter veicolare la vittoria ovviamente in questo è fondamentale altrimenti non riesce a veicolare spesso messaggi come una sconfitta e io mi ero messo in testa delle parole che secondo me erano importanti e come se l'Olimpiade avesse sottolineato tutte quelle parole che avevo avevo in mente e io avevo già scritto un possibile discorso perché sapevo che quando fai qualcosa di speciale poi parli in luoghi importanti e fu incredibile come quelle parole furono proprio sottolineate da quell'Olimpiade e poi la vittoria dell'Europeo fu qualcosa che secondo me non ha mai coperto dal punto di vista della squadra la delusione delle Olimpiade perché secondo me tante delle cose che poi abbiamo fatto fatica a gestire erano figlie delle Olimpiade però nel breve periodo fu una spinta clamorosa nell'andarci a prendere quell'Europeo e anche la VNL successiva l'anno dopo Il tuo successore sulla panchina azzurra è Velasco anche per lui le Olimpiadi hanno rappresentato nonostante l'abbia sempre negato comunque una piccola grande ossessione ecco come si vive la frustrazione se vogliamo definirla così per il fatto che la massima competizione per uno sport come la pallavolo l'Olimpiade non si traduca in un risultato all'altezza delle proprie aspettative magari anche all'altezza della qualità della squadra che si guida ma non è allora non è così diversa dalle altre manifestazioni anche se poi è la più importante nel senso che anche quando poi che ne so siamo usciti dal mondiale o l'anno scorso poi all'europeo non è che vivi le sconfitte in un modo così diverso o in momenti difficili è vero che l'Olimpiade amplifica molto spesso nel bene e nel male quello che vivi quindi forse è un pochino più amplificato perché comunque perché anche la percezione popolare è molto più elevata e che delle Olimpiadi poi parlano tutti nel senso che quando fai il mondiale o l'europeo ci sono solo quelli gli editi ai lavori invece poi ovviamente l'Olimpiade diventa una cosa di tutti e quindi lì ovviamente la cassa di risonanza è maggiore però è qualcosa che vivi proprio dentro mi ricordo anche io ho fatto anche l'Olimpiadi di Pechino l'Olimpiadi di Londra e quando usciamo ai quarti la sensazione di quella era proprio un vuoto diverso è sempre un vuoto però era un vuoto più rumoroso rispetto ad altri non so perché quindi diciamo che più o meno le sconfitte hanno lo stesso sapore quello l'Olimpiadi non so nel dopo ha un sapore un po' diverso un po' più amplificato però vorrei provare l'altra sensazione per dire se poi amplifica anche la gioia oltre che la pesantezza della sconfitta avete potuto capire che Mazzanti si prepara i discorsi a volte soprattutto quando sono discorsi da tenere in luoghi particolarmente prestigiosi e di discorsi ne hai dovuto tenere al Quirinale credo in due occasioni addirittura e abbiamo qui le immagini dell'intervento che è stato appunto condotto in occasione dell'oro agli europei davanti al capo dello Stato e alle massime autorità hai voluto appunto veicolare questo messaggio che in qualche modo accomuna vincitori e sconfitti hai sentito come un dovere sottolineare quell'aspetto qual è la motivazione che ti ha indotto a proferire quelle parole piuttosto che altre ma l'idea del del rispetto del del lavoro credo che sia sacrosanto rispettare il lavoro delle persone e mio padre ha sempre chiamato i sacrifici i sacrifici che uno fa anche se quando mio padre lo diceva il sacrificio mi dava l'idea di qualcosa di pesante invece poi sacrificio significa rendere sacro quindi qualcosa nobilitare sì nobilitare quello che stai facendo e a volte nella vittoria nella sconfitta c'è un cancellare tutto che è anche una cosa che a volte cerco di di evitare in palestra perché molto spesso quando un atleta sbaglia ha la tendenza a cancellare a distrugere tutto quello che ha fatto invece credo che l'arte di migliorarsi sia proprio nell'evidenziare qual è l'aspetto il dettaglio da da migliorare e tenersi il buono perché poi per insomma evitare di gettare via il bambino con l'acqua sporca sì e credo che sia comunque un'operazione difficile perché comunque quando poi rischi di buttare tutto nella nella pattumiera perché comunque è figlio magari di un fallimento rischi di buttare via veramente è una parte buona e a volte credo che nella vittoria non ci siano tanti meno errori rispetto a una sconfitta e l'unica cosa è che non li devi raccontare quando poi vinci però credo che gli aspetti negativi poi un allenatore li cogli anche durante una vittoria e poi riparte da lì e il difficile a volte è raccontare la sconfitta per questo perché poi devi essere molto lucido nell'evidenziare che è stato quello il problema oggettivo e obiettivo perché poi penso che dare il nome giusto alle cose sia l'unico modo per ripartire se ci giri intorno credo che poi la possibilità che quella cosa poi si rifaccia viva è molto molto probabile credo che non sia un'eresia dire che come minimo ti saresti augurato un finale diverso della tua lunga e proficua avventura in azzurro ora sono passati dei mesi e quindi voglio dire le emozioni vissute a caldo in qualche modo sono state rivalutate riconsiderate tutti gli avvenimenti che in quel momento potevano avere una certa dimensione ora magari ad una successiva rilettura ne hanno un'altra cosa ti senti di dire dopo tanti mesi a distanza di tanti mesi da quello che è successo che anche se fuori è stato raccontato in un modo totalmente diverso dentro è stato un anno veramente intenso e carico di qualità perché il fatto di voler ricreare un ambiente per ricreare spinta poi per per l'olimpiade mi ha fatto ripartire da un gruppo un pochino più ristretto che aveva come obiettivo proprio quello di dare una forma più precisa a quel gruppo ed è stato un percorso bellissimo fino alla VNL e nell'europeo poi la difficoltà a gestire comunque la situazione che è stata vista come un dualismo e invece era netta nel senso che avevo scelto in un modo e quel modo lì molti mi hanno detto se tornassi indietro cosa faresti era tutto come come l'avevo pensato cioè come l'avevo immaginato un percorso difficile in cui quell'ambiente lì doveva alla fine produrre un risultato per riuscire ad avere un seguito non siamo riusciti a coglierlo per tanto così perché in quella semifinale siamo arrivati vicinissimi ad arrivare in finale a proposito di confine sottile fra Vittorio e Sofì e magari con con una finale quindi una medaglia magari sarei ancora lì a guidare la nazionale e però non può essere quel risultato a modificare un'estate che è stata tra le più ricche e le più le più intense che io abbia mai vissuto perché quello che abbiamo fatto in VNL è stato sicuramente una cosa incredibile e poi è vero che siamo usciti subito con la Turchia che sicuramente l'anno scorso anche per tutto quello che ha ottenuto era la squadra più forte e quindi l'abbiamo sempre incontrata nei momenti caldi che erano un po' il dentro e fuori per noi ma al di là di quello che fa parte di un cammino sportivo il come l'abbiamo fatto secondo me è irripetibile ed è la polemica che ha ampiamente travalicato l'ambito sportivo che ne hai seguita il dualismo a cui ti riferivi è quello con Paolo Egon Sì un dualismo che poi si è trasferito più con me che con con la diretta compagna di ruolo e una cosa che poi ho detto anche in consiglio abbiamo dato veramente un cattivo esempio perché il fatto di non aver protetto il nostro ambiente da tutto quello che erano le critiche ha lasciato la porta aperta a che tutti entrassero a dire la loro e sarebbe bastato secondo me molto poco per per riuscire a tenere l'ambiente insieme tutti insieme e non fare entrare nessuno nel nostro ambiente e portare avanti questo discorso e non abbiamo avuto secondo me insieme il coraggio di portare avanti quello che ci eravamo detti e e questo secondo me al di là che gli errori si commettono la cosa che mi dispiace di più ed è quello che ho detto in consiglio che abbiamo dato veramente un cattivo esempio perché noi siamo al vertice di una piramide e se noi facciamo passare che l'allenatore della nazionale è magari una persona che fa complotti che prende decisioni per per vendetta o per rivalsa rischiamo di di far passare tutto il movimento in quel modo perché io divento attaccabile ma non è che io divento attaccabile è che poi tutti i allenatori che stanno sotto nel giovanile forse hanno problemi ancora maggiore a dover gestire questa cosa perché se tutti si sentono in diritto di criticare il vertice secondo me la base ne risente in un modo esagerato ed è questa la cosa che mi dispiace di più non il fatto di aver perso la nazionale perché ho fatto quello che avevo in testa poi il risultato non è stato sufficiente a mantenere quel posto ma sinceramente ho fatto quello che mi sentivo e come lo volevo fare ma la cosa che mi dispiace è più questa e quindi ce l'ho ancora dentro questa cosa cioè nel senso che non abbiamo comunicato in modo giusto quello che avevo in testa ma ho ancora dentro di me la voglia di comunicare quella cosa di far vedere che un ambiente quando è protetto garantisce alle persone che sono lì dentro di prendersi la responsabilità che secondo me è uno dei problemi più grandi dei giovani di oggi il prendersi la responsabilità non perché non hanno le capacità ma perché in un ambiente che viene delegittimato e possiamo parlare di scuola di famiglia di tutto quello che ci viene in mente se quell'ambiente viene delegittimato nessuno se l'ambiente è sbagliato si sente in dovere in diritto di prendersi la responsabilità e credo che questo massaggio è giusto non sono riuscito a comunicarlo per una serie di motivi ma questo non cambia l'idea che quello che sento è che questa cosa va trasmessa e la devo continuare a percorrere Azzurro alle spalle e qualche mese fa la scelta di sposare la causa di Trento si usa spesso il termine progetto nello sport qualche volta se ne abusa francamente in questo caso mi pare di progetto si possa legittimamente parlare la portata dell'accordo tre anni e mezzo in questo senso ne rende testimonianza hai preso una squadra che aveva già un piede e mezzo in A2 e in A2 c'è finita si riparte dall'A2 è una diminuzio per te oppure appunto in forza di quel progetto ci si può tranquillamente fare una ragione di ripartire dalla seconda divisione della vola in azione mi piace tanto il progetto che mi ha prospettato Trento perché in tutte le altre situazioni che mi hanno prospettato altri club vedevo un non futuro un qualcosa che era solo un qualcosa di momentaneo e qui invece vedevo la possibilità di costruire qualcosa nel tempo qualcosa di nostro perché sento Trento molto nelle mie corde e quindi di ricostruire qualcosa e ho visto che la mia vita ogni dieci anni mi chiede un salto di qualità perché ho iniziato più o meno l'attività di alto livello nel 2003 nel 2013 ho avuto quel momento e l'anno scorso 2.23 altro momento importante quindi che la mia vita ciclicamente ogni dieci anni mi chiede un salto e Trento per me è il nuovo salto per riuscire a fare qualcosa di importante sotto tanti punti di vista che c'è ovviamente l'ambizione del risultato ma c'è anche il fatto di poter costruire qualcosa sul territorio di Trento e ho già iniziato qualcosa per continuare quello che mi piace ossia studiare e credo che sono tanti aspetti che di cui ho bisogno per per rendere al meglio Davide Mazzanti come tutti sanno è di Marotta e a Marotta è stato celebrato più volte in questi anni in ogni occasione lieta Marotta è casa quanto è importante per un uomo di sport che gira l'Italia gira l'Europa gira il mondo avere un punto di riferimento avere radici ma ho la pelle d'oca perché Marotta mi vuole proprio bene forse l'aspetto più più bello anche della nazionale è proprio condividere una una cosa così preziosa come la nazionale con Marotta e quindi questa cosa qui non potrò magari viverla come prima però quando vado a Marotta sento l'affetto e nel fatto che quando hai la fortuna di fare un lavoro come come il mio la possibilità che la gente si possa riconoscere in quello che fai e ha diretta soddisfazione in quello che tu fai e questa Marotta lo sento tantissimo e mi carica di una responsabilità bella di proprio di mettere poi il mio talento ancora di più in campo perché poi so che viene amplificata quando arrivi quando vai a casa e questa cosa qui mi piace veramente tanto è una cosa inaspettata e domani sera siccome sto tenendo il corso allievo per qui a Fano facciamo lezioni a Marotta e anche la stessa cosa fare comunque lezione a Marotta nel palazzetto dove ho iniziato e fare quello che poi Lorenzetti ha fatto per me al tempo ha un mix di emozioni e di romanticismo nel ripercorrere tutte queste cose Marotta è casa in senso metaforico ma non solo poi c'è una casa vera e propria con una compagna una moglie e una figlia una compagna e una moglie che si chiama Serena Ortolani che ha vissuto il tuo stesso ambiente forse ancora più a lungo di te ad alti livelli allora ci si chiede in questi casi pallavolo argomento tabù in famiglia o il fatto di potersi confrontare con una persona che ha vissuto e continua a vivere quel mondo che tra l'altro sarà tua avversaria nella prossima stagione è un'occasione di crescita e anche di approfondimento quando abbiamo lavorato insieme abbiamo sempre cercato di dividere il lavoro dalla casa perché altrimenti rischiava di diventare un continuo parlare di pallavolo e invece siamo sempre stati molto bravi a separare il lavoro dalla casa e mi ricordo anche a casa il maggiore il mio ufficio era sopra e io quindi andavo sopra poi la famiglia era la famiglia e non si parlava e in questo eravamo veramente molto bravi adesso che non lavoriamo più insieme anzi adesso lavoriamo contro ci confrontiamo sicuramente di più sugli aspetti anche perché Serena è molto brava secondo me a percepirsi e ad allenarsi e quindi a volte mi dà degli spunti su quello che le atlete sentono o su quello che a volte gli allenatori potrebbero far di meglio in palestra però anche a casa abbiamo cercato di dividere la pallavolo è tutta nel sottotetto se arrivi a casa mia la pallavolo non la vedi proprio perché comunque è una parte non è tutto è una parte importante e quindi questa separazione un po' netta anche nella casa del lavoro e di quello che è la nostra famiglia c'è e secondo me è stata una buona strategia figlia pallavolista per induzione sei pallavolista o per convinzione? Gaia ha fatto ginastica ritmica fino all'anno scorso ha iniziato quest'anno e quest'anno poi devo dire che ha iniziato anche a divertirsi perché dopo la prima amichevole mi fa ma sai babbo che giocare la pallavolo mi piace proprio è una figata sì quindi questa cosa qui ci ha acceso però io e Serena siamo sempre stati molto attenti nel non indurla anche se poi ha visto pallavolo da sempre e se tu le chiedi cosa vuole fare da grande magari adesso dice voglio fare l'opposta come la mamma cioè neanche la pallavolista proprio il ruolo della mamma però al di là di questo credo che la cosa che che ci piace è quella lì di averla lasciata comunque libera di sperimentare di di vivere lo sport come come sentiva e adesso è arrivato il momento della della pallavolo questa cosa ci piace però cerchiamo sempre di essere un po' distaccati anche quando adesso domenica siamo andati a vedere un torneo e anche se è difficile essere distaccati perché comunque se andiamo a vedere un torneo comunque noi diventiamo un po' gli ospiti d'onore e e quindi non so lei come vive questa cosa magari mi piacerebbe che fosse lei al centro di tutto invece a volte quando andiamo a vedere le partite poi diventiamo noi il centro ed è l'unico aspetto che non mi piace grazie a Davide Mazzanti al quale chiediamo l'impegno di tornarci a fare visita alla fine della prossima stagione per festeggiare qualcosa non diciamo cosa io torno poi vediamo e noi invece torniamo qui fra qualche istante Ancora pallavolo perché dobbiamo parlare doverosamente della Smart System che ha un piede in A2 bisogna ora metterci l'altro e l'opportunità verrà offerta da gara 2 della finale playoff contro Sandonà il cui atto primo è andato in scena come vediamo domenica al Palace Allende vittoria per 3 a 1 della formazione fanese che nel primo set condotto quasi sempre si è smarrita nel finale sciupando anche un paio di opportunità per portarsi sull'1 a 0 la squadra di Mastrangelo ha comunque avuto il merito di riprendere il controllo della gara già dal set successivo in cui ha trovato anche maggiore incisività al servizio facendo valere anche i numeri che a muro si sono confermati di altissimo profilo è stato quello forse il fondamentale in cui è stata marcata una più sensibile differenza rispetto alla squadra veneta che ha avuto il merito di restare in partita quasi fino all'ultimo ma che è parsa complessivamente alla portata della squadra virtussina che qui vediamo festeggiare a fine gara di fronte ad un Palace Allende traboccante entusiasmo Palace Allende che si è confermato fortino e inespugnabile ricordiamo che in questa stagione la Smart System ha perso in casa soltanto la finale di Coppa Italia contro Palmi e che almeno in stagione regolare sempre al Palace Allende non perde dall'inizio della stagione scorsa qui a raccontare gara 1 anche la clip realizzata da Momo Video che riproduce alcuni dei momenti più significativi di questa sfida che la Smart System ha giocato forse non al meglio del suo livello ma in cui ha confermato comunque le proprie credenziali che ne fanno specie dopo questa vittoria in gara 1 la pretendente più accreditata quel salto di categoria che la società ha dimostrato di voler inseguire concretamente sin dall'inizio della stagione che è ad un passo sabato prossimo gara 2 a San Donà dove la Smart System dovrebbe essere seguita da un pullman di tifosi e in cui dovrà dare prova anche di riuscire a venire a capo definitivamente anche di quel complesso da trasferta di cui ha sofferto in larghi tratti della stagione non riuscendo ad esprimere appunto lontano dalla Palace Allende lo stesso livello di gioco che invece riesce ad esibire sul terreno amico Smart System che dovrà fare i conti anche con un impianto quello in cui gioca il San Donà che non è certo il più confortevole per chi non è abituato ad estreggiarsi al suo interno vediamo anche riassunta ora dalla schermata quella che è la linea appunto di questa finale playoff con gara 2 in programma sabato 18 maggio a San Donà mentre l'eventuale gara 3 la bella che sarebbe a quel punto decisiva il 22 maggio mercoledì di nuovo a Fano ci siamo quasi dopo domani dopo 12 anni il Giro d'Italia torna a Fano dove è collocato l'arrivo della tappa in partenza da Martín Sicuro di questo grande evento parleremo con quello che è il fautore dell'evento stesso Alighiero Omicieli buonasera bentornato buonasera Andrea grazie dell'invito due giorni all'arrivo della tappa ma quasi tutto dovrebbe essere pronto ma come sempre non tutto è pronto fino alla fine è così anche in questo caso ma sì come spesso accade quando arrivano quando si ha a che fare con eventi di queste dimensioni sicuramente molte cose bisogna ultimarle all'ultimo istante però sono certo che anche quest'anno Fano e tutto il territorio non uscirà alla grande come è stato anche nelle passate edizioni come sta recependo questo territorio un evento che rispetto alle tappe che sono state organizzate negli anni con arrivo a Fano si caratterizza per un lungo percorso in territorio fanese 27-28 km attraversata non dico l'intera città ma buona parte con alcuni tra i luoghi più caratteristici come vedremo anche questa ascesa verso Monte Giove che connoterà probabilmente finale d'età assolutamente sì è una cosa rispetto alle tre precedenti edizioni è un percorso che come stavi appunto poco fa dicendo che si caratterizza per una novità assoluta nel senso che abbraccia totalmente la città di Fano dalla parte sud fino alla parte nord coinvolgendo persino tutta la zona collinare più prospiciente al mare tra l'altro anche molto bello quindi mi auguro che il tempo ci dia una mano perché sicuramente le riprese dall'alto di Monte Giove valorizzeranno ancora di più la città e la tappa almeno sulla carta si presume che sia una tappa dove questa famosa salita di via Patuccia sicuramente contribuirà a fare una selezione per coloro che vorranno arrivare primi sotto il traguardo di Fano è una strada molto stretta molto ripida molto stretta con una discesa altrettanto ripida alquanto come dire capace molto molto tecnica diciamo così onde per cui non faccio previsioni ma penso che sia difficile che ci sia un arrivo in gruppo piuttosto che un arrivo di un gruppetto o di qualche sparuto corridore ecco facciamo un passo indietro anzi tre passi indietro ripercorriamo le tappe fanesi della storia del Giro d'Italia attraverso questa clip che parte appunto dal racconto di quel 28 maggio 1962 si partiva anche in quel caso dall'Abruzzo da Chieti arrivo a Fano arrivo collocato esattamente in Viale Cairoli con il gruppo che è transitato dalla statale per poi imboccare Viale Carducci e giungere appunto sul traguardo con il successo vedremo anche da queste immagini così abbastanza discusso del corridore fanese Tonucci un legame con il giro che si riannoda e come oggi anche allora uno spettacolo di gente fuori dall'ordinario beh di solito il giro offre tutto questo quest'anno ad oggi il giro sta attraendo tantissima gente sia lungo le strade leggevo anche i dati in televisione anche se poi come dire sembra che la soluzione o comunque il vincitore sia qualcosa di scontato però ciò nonostante come dire la bellezza di questo evento che tra l'altro è chiamato a un sottotitolo il giro d'italia che è quella della corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo ecco quindi il giro mostra anche tutto questo e crea anche entusiasmo tra tutti coloro che in qualche modo si mettono a fianco della strada ad applaudire i cordiori che transitano e non mi pare si tratti di uno slogan abbiamo visto invece l'arrivo della tappa del 1983 spostato in viale adriatico sempre sul lungomare ma in zona sassonia con il successo di rosola queste invece sono le immagini del 2012 quando fu Cavendish a bruciare tutti sul traguardo ubicato in viale Gramsci lì dove sarà posizionato anche il traguardo del Martinsicuro Fano anche in quel caso nel 2012 grande concorso di folla bellissima giornata di sole e anche un vincitore illustre assolutamente era forse il velocista numero uno al mondo a quel tempo poi rimane emblematica nel ricordo di tutti questa foto questa premiazione con lui con abbraccio il suo piccolo figlio nato da pochi mesi per cui sarà è un ricordo che Fano porta con sé e io spero che facciamo tutti gli scongiuri del caso anche quest'anno indosserà la maglia rosa forse al più importante corridore più forte corridore al mondo che ci sia in questo momento e vediamo un pochino più da vicino come si articolerà questa Martinsicuro Fano nei 27 chilometri finali mica pochi che appunto si snoderanno in territorio comunale fanese ci aiutano in questo senso un gruppo di cicloamatori che hanno percorso quelle strade nell'inverno e hanno anche saggiato la fatica che comporta questo tipo di percorso Alighiero Cosa si può dire dal momento in cui i corridori arriveranno da San Costanzo per poi affrontare tutte le asperità e anche diceva qualcuno i trabocchetti che questo arrivo nasconde Sì come diciamo poco fa è un finale di gara molto tortuoso ricco di curve per cui l'abilità e la capacità di andare in bicicletta non è una cosa assolutamente secondaria la salita di via Patuccia ripeto una salita con una pendenza che supera abbondantemente il 20% è molto stretta fa sì che ci sia inesorabilmente sarà un allungamento del ecco qui l'imbocco di via Patuccia esattamente un allungamento del gruppo la discesa che è altrettanto molto molto tecnica non favorirà ricongiungimenti per cui veramente ci aspettiamo un finale assolutamente spettacolare e che dire veniamo da 192 chilometri di corse di un su e giù continuo perché comunque appena si entra nel territorio marchigiano la corsa prende una direzione che non è quella della costa ma è bensì quella dell'entroterra noi sappiamo benissimo che cosa significa l'entroterra marchigiana un su e giù continuo di saliscendi che sicuramente favoriranno un gruppo in fuga comunque diciamo un arrivo che non sarà penso proprio in volata un po' di acido lattico nelle gambe ci sarà già dunque diciamo dell'ascesa da via Patuccia verso Monte Giove preceduta dal transito nel centro abitato di Bellocchi dove si arriverà proprio da Tre Ponti poi lungo la Flaminia via Roma e successivamente da Viale Italia fino a via della Giustizia via della Liscia che il gruppo di ciclamatori sta percorrendo proprio ora e successivamente via Nazario Sauro lungo il porto a fianco della Darsena Borghese per uno degli scorci davvero più suggestivi ce ne saranno diversi fino a Viale Adriatico da dove ci si arrampicherà attraverso Viale Battisti fino a Via Cavallotti per poi imboccare il lungo rettilineo conclusivo ma anche lì bisognerà fare attenzione perché inizialmente all'altezza di Viale 12 settembre quel rettilineo è in leggera salita e questo può fare la differenza a quel punto della corsa assolutamente perché diversamente dall'altre volte dove c'era sempre l'arrivo in Viale Gramsci che era ribaltato rispetto all'arrivo di quest'anno ovvero eravamo diciamo verso la zona sud diciamo verso la zona di ipotitivamente di Marotta lato Marotta quest'anno l'arrivo sarà invece lato Pesaro e già salendo appunto diciamo dalla stazione la strada è in salita ma anche l'arrivo stesso il rettilineo di Viale Gramsci ha una pendenza intorno all'1,5 1,8% per cui anche quello inciderà su una corsa che sicuramente si farà sentire dopo 190 km dicevi dell'attesa che è palpabile in città ma soprattutto in certe località come quella di Cucurano per questa scesa su via Patuccia c'è stato un appuntamento nei giorni scorsi ed hai potuto davvero toccare con mano quale entusiasmo ha suscitato la scelta di portare i corridori in quel posto e appunto imporre ai corridori quello sforzo che sarà notevolissimo consentendo poi al pubblico perché credo che in molti si asseperanno lungo quella strada di seguirne da vicino l'evoluzione sì il giro di per sé è un qualche cosa è un evento è l'evento nazionale popolare per eccellenza questo è indiscusso lo sappiamo è stato proprio nominato pochi mesi fa dal vicepresidente del ministro degli esteri come l'ambasciatore italiano nel mondo e comunque veder transitare il giro d'Italia in una via dove io penso che nessuno adesso anche le persone che possono godere di una fantasia incredibile poteva immaginare di vedere transitare ovvero per via Patuccia ha creato una sorta percorsa da pochi abitualmente assolutamente sì perché ci sono pochissime abitazioni se non dei terreni nelle zone appunto limitrofe alla strada di conseguenza ecco veder percorsa da una miriade di auto di colori di sirene e gli elicotteri che da sopra riprenderanno il tutto ecco crea un entusiasmo incredibile e un ricordo che penso veramente sarà indiribile per tutti quelli che abitano nella zona e non solo perché poi naturalmente la carovana potrà essere seguita a lungo tutti questi 27 km quindi i luoghi saranno innumerevoli ma lì davvero con quella ascesa non dico che si potrà toccare con mano il corridore perché non va affatto ma ci si andrà molto vicino quello non va affatto ma la strada è veramente stretta posso garantire l'ho percorsa anche l'altro giorno per fare l'ultimo sopralluogo devo dire che nonostante che sia stata sistemata dovere ad hoc però è veramente stretta per cui immaginando una 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 fulla di persone ai lati della strada veramente i corridori cammineranno a pochi centimetri dagli spettatori e la loro abilità si misurerà anche sulla discesa ugualmente molto stretta e anche abbastanza articolata diciamo così assolutamente si è molto molto tortuosa e quindi ci avrà molta molta tecnica nell'affrontarla ma sentiamo cosa raccontano gli esperti di questa Martinsicurofano a partire da Davide Cassani e quello che si era sentito appunto di dire in occasione della presentazione ufficiale della tappa dello scorso febbraio infatti volevo chiedere al direttore perché uno dice Martinsicurofano una tappa per velocisti assolutamente no perché si entra nell'entroterra e sono curioso di vedere questo Montegiovi ed è un trampolino di lancio ideale perché questa strada stretta quindi ci sarà veramente battaglia per cominciare nelle prime posizioni questo strappo e dal momento che dalla cima mancheranno 6 o 7 chilometri con discesa e curve nel finale sarà veramente una tappa tra bocchetto una tappa insidiosa difficile Davide Cassani che si potrà togliere questa curiosità perché sta seguendo appunto questa edizione del giro da commentatore televisivo hai avuto modo di risentirlo in questi giorni l'ho sentito la settimana scorsa a dire il vero così per sapere come andava e come stava ci siamo andati appuntamenti appunto dopo domani per fare due chiacchiere però ecco riconfermo tutto quello che Davide ha detto in occasione della presentazione la strada non consente è molto insidiosa sia la salita che la discesa per cui veramente sarà uno spettacolo poter essere lì a fianco dei corridori e un'idea dell'arrivo della Martinsicurofano se l'è fatta anche Vincenzo Nibali che sempre in occasione della presentazione ufficiale della Martinsicurofano rilasciò queste dichiarazioni perché quando si arrivava anche ad avere delle tappe come quella di Fano che come diceva Davide che ha raccontato tanto e sulla carta sembra una tappa facile ma è una di quelle tappe che disintegra il gruppo specialmente nel finale ci sono tantissime curve e prendere 20-30 secondi è come un niente lì bisogna avere veramente tanta abilità bisogna avere squadra e non serve soltanto essere dei bravi velocisti bisogna saper guidare la bici anche saper guidare la bici non tanti pongono l'accento su questo aspetto che però è fondamentale soprattutto su certi tracciati beh direi assolutamente sì è vero che quando si arriva a quei livelli al professionismo la bici solitamente la si sa guidare però ecco non è che ci sia una pari qualità nel guidarla ci sono proprio dei corridori che hanno una propensione al rischio e amano le discese e anche una sensibilità evidentemente esattamente per cui altri che invece sono anche campioni del passato o anche attuali che invece hanno molta più paura nell'affrontare anche discese molto insidiosi come quella di Montegiove Giro d'Italia 2024 che sta facendo rima con Tadej Pogacar ora era facile prevedere che il campione sloveno potesse dominare la scena ma in questi giorni stiamo assistendo ad una sorta di monologo con Pogacar che si concede anche il lusso di fare le volate assolutamente sì è tutto vero quasi sembra di vedere un corridore che non sia primo in classifica ma che ricerchi la testa della classifica si spende e si adopera in qualsiasi circostanza in qualsiasi tappa non difende assolutamente il titolo di leader della classifica ma è uno spettacolo vederlo correre per cui anche se anche prima della partenza del Giro era scontato quasi scontato la sua vittoria finale e oggi indossa la maglia rosa con un largo vantaggio sul secondo in classifica però ripeto è veramente un corridore che dà piacere solo a vederlo correre perché non si non lesina mai alcun tipo di non risparmia mai energie ma dà sempre tutto in ogni circostanza tra l'altro proprio Pogacar in questi giorni ha avuto modo di dichiarare che il Giro d'Italia è la sua competizione preferita l'antepone nei suoi interessi sia al Giro di Francia che al Giro di Spagna sì è vero ho sentito questa dichiarazione l'auspicio che il prossimo anno oltre a Pogacar ci siano altri campioni così che ecco il Giro si guadagna la competizione da un punto di vista competitivo ecco e se Pogacar ha questa bulimia da vittoria c'è da attendersi anche che nella Martin Sicuro Fano faccia in qualche modo sentire la sua presenza è l'auspicio sarebbe il top mettere la maglia spero che la maglia rosa rimanga sulle spalle di Pogacar non ho avuto modo di vedere la tappa di oggi oggi l'ha conservata senza nessun problema perché avevo da fare detto questo per cui indossare già la maglia di rosa Fano e magari chissà la maglia anche di vincitore la tappa sarebbe sarebbe veramente un qualche cosa che rimarrà nella storia della città al di là del ciclismo proprio rimane nella storia di questa città e a proposito di storia andiamo a narrare anche la serie di eventi ciclistici di altissimo profilo che questo territorio ha ospitato in questi anni si è ribadito in occasione anche della presentazione della tappa come non si tratti di un fatto casuale e tantomeno di un fatto scontato facciamo scorrere le immagini Alighiero ma non arrivano queste cose non arrivano casualmente non arrivano per fortuna arrivano solo per meriti perché come già ha avuto modo di dire in altre circostanze nell'arco del tempo ci si è sempre dimostrati di essere all'altezza nell'affrontare queste competizioni questi eventi così impattanti così importanti sotto tutti gli aspetti da quelli organizzativi a quelli logistici a quelli della gestione della sicurezza e quant'altro il nostro territorio la nostra provincia ha sempre risposto alla grande e oggi proprio a distanza di appena un anno siamo ancora qua a riparlare di Giro d'Italia dopo la tappa di Fossombrone dello scorso anno significa che comunque questi galloni ce li siamo meritati e speriamo che anche per il futuro questa tensione continui ad essere nei nostri confronti e anche per il futuro al di là di chi muove le leve sarà necessario un concorso di forze perché senza quello difficile far arrivare grandi eventi assolutamente sì questo è la condizio per poter proseguire così come ho detto è stato fatto negli anni passati quest'anno sarà fatto altrettanto perché comunque sia 28 chilometri di percorso cittadino in qualche modo impegnano tantissimo tutti quanti nel garantire sicurezza e garanzia appunto a questo evento e sono certo che quest'anno così come è stato fatto sapremo essere totalmente all'altezza per poter rilanciare candidature anche negli anni successivi anche perché il territorio si presta e quello rimane sempre uguale assolutamente bellissimo il nostro territorio questa sinuosità queste colline veramente si prestano alla bicicletta sono qualche cosa di spettacolare dovremmo veramente insistere sempre sempre di più su eventi di questo genere che è vero che hanno un costo hanno un impatto anche economico non di poco conto è inutile nasconderci però hanno dei ritorni è stato detto in più di una circostanza possiamo citare qualche numero ancora una volta ma sì adesso il giro costa tanti soldi non so se posso esprimere costa qualche centinaio di migliaia di euro più gli investimenti che vengono fatti a livello strutturale da ogni singola amministrazione perché poi quando si hanno ospiti del genere e si va in tutto il mondo a mostrare se stessi si cerca di mostrare nel miglior modo possibile però gli investimenti fatti dalle amministrazioni dalle varie amministrazioni competenti comunque rimangono sempre sul territorio anche per gli anni successivi ripeto vale io dico sempre perché il giro vale con tutto rispetto vale cento fiere o cento altri eventi senza nulla togliere a queste cose però avere l'opportunità di organizzare eventi di questo calibro qua di questa portata è un qualche cosa di straordinario perché si parla di mondo visione assolutamente sì di mondo visione naturalmente il fatto che Fano sia attraversata per 28 km dal giro comporterà dei disagi quindi rinnoviamo la raccomandazione a tutti i cittadini che devono spostarsi di farlo solo in caso di necessità e comunque di seguire e per tempo tutte le indicazioni riguardanti di vieti e inibizioni al traffico assolutamente io dico che più che disagi diciamo che ognuno deve organizzarsi al meglio quindi sappiamo che questa cosa impatta per alcune ore sul traffico cittadino in alcune strade io mi auguro che ecco che i disagi siano il meno possibile però con una buona informazione penso che si stia facendo in queste ultime ore cerchiamo di far sì che nessuno si trovi in difficoltà ma sappi in qualche modo poterci organizzare in alternativa al giro se proprio non può venire a vedere il giro il mio consiglio è che se si può chi può faccia uno sforzo per esserci perché ne dico al di là del ciclismo ne vale veramente la pena grazie ad Arigliero Miccioli grazie ancora una volta a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima a tutti